Come dire, che ci viene naturale pensare un po' di musica e di allegria. Come dire, ci viene naturale pensare un po' di musica. Come dire, ci viene naturale pensare un po' di musica. Come dire, ci viene naturale pensare un po' di musica. Come dire, ci viene naturale pensare un po' di musica. Come dire, ci viene naturale pensare un po' di musica. Come dire, ci viene naturale pensare un po' di musica. Come dire, ci viene naturale pensare un po' di musica. Come dire, ci viene naturale pensare un po' di musica. Allora, questa è la settimana emozionale, veramente, perché ci siamo raccolti in tanti momenti fatti di queste passioni e di emozioni su questo palco e non solo su questo palco. Io vorrei che Fiorenzo adesso ci trascinasse con il suo modo di suonare in un'atmosfera di anni 60-70, ricordando un sassofonista di quegli anni che faceva innamorare tante persone. Fausto Pappetti, ricordiamoci di questo suono del sax, immaginandoci una passeggiata in riva al mare con un tramonto, ecco, sul tramonto che c'è. E quindi questi erano i motivi e le atmosfere di quegli anni, quando c'era il sole che tramontava. Alta marea, la novità di Fiorenzo Tassinari, il suo sax. Allora, non farò nomi, nella mia vita ne ho passate tante, ricordo questi momenti, diciamo così, legato a una persona che ormai è lontana da me, che mi chiamava Dindi. Chiamava? Dindi. Dindon, meglio di Dindon. Dindi? No, io sono entrato un attimo con la battuta, ma posso capire che è una delina importante. Ok. Per, allora, quella persona che si chiama, che è vivo, quindi, veniva chiamato Dindi, che c'è ancora, quindi non è che posso dire che si chiamava. Il soprannome mi è stato dato dopo che mi ha visto spogliato. Ah, ecco, ho capito, perfetto. E quindi è deducibile perché... Allora va bene che Dindon. No, Dindon, no, c'è proprio, anche, di solito fa Dindon. Il mio faccio è Dindin proprio. Ah, va bene. Però è bello presentare in maniera poetica le canzoni, cercando l'atmosfera, cercando i momenti proprio. Però chissà perché li va... Ma qui tutto leggo. Dai, dai. No, ma io fortunatamente sono dotato di ignoranza, quindi... Gian Mirko, l'atmosfera di luci per ritornare in questo ambiente in stile anni Sessanta. Alta marea, Fiorenzo Tassinari. Grazie. 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 Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti. La strada più bella è la strada del cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.